CEMPI, il gruppo di acquisto di Confartigenato Ancona-Pesaro-Urbino, si affida da sempre ai migliori fornitori di energia elettrica per ottenere le tariffe più vantaggiose per imprese privati. La storica collaborazione con il gruppo Domina, leader del settore automotive, dà vita al progetto Mobilità Sostenibile, con l'obiettivo di dare risposte alle esigenze personalizzate per imprese privati. Riduzione costi energia elettrica Immobility Colonnine di ricarica Impianti fotovoltaici Tutto questo è Mobilità Sostenibile. E tu? Vuoi essere il prossimo?